va bene un po più veloce hai visto che eri quasi su deve venire sul dietro bravo dai giù scendi scendi dai qua sassetto no la devi girare la largo per quello che ti dico falla piedi gira dietro dietro al sasso giù subito giù subito bella dai sasso piatto forte forte così vai ok 5 tocca al davanti e vai via più alto fai un saltino sul sasso no un saltino da scendere guarda un saltone oh non vedi il sasso eh no se non gli metti il sasso è inutile no con il sasso è facile così guarda che fai roba di piscine tu ci fai girato il sasso col piede giù così come ho fatto io infatti ho filmato parti un po' più indietro parti un po' più indietro tocca e dagli tanto in modo che vai di là hai fatto il tronco ma il tronco è di legno forte cinque sì l'ho fatto lo puoi fare anche indietro eh poi perché lo fanno che forza sai Leo perché lo fanno qua io non so fanno qua qua perché lì qua 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 lei ti porta giù dietro qua 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 bravo vieni da me vieni da me vieni da me però ci stava eri su eh devo dare un po' più faccio vedere faccio vedere faccio vedere guarda bene oh guarda lui col male col male vai sergio portabile benelli benelli grande benelli al nero al nero benelli vedi che sei sempre di là e ti scappa giù dietro dai tira 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 bravo tira 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 stavola e adesso fagliela fare al contrario eh ma tronco mio via ma va lo coppi e scendi a c'è non ancora porta a c'è lì guarda lì ecco lì a poco vieni tu di qua vieni tu e qua perché gli dai quanto se in cima è un po' tipo la punta se ti dai un po' di gas non se in cima non se in cima se ti dai